Attenzione su Azzo, siamo ai 20 metri, spiraglio per lui su Azzo e c'è il gol del Cagliari! Decimo minuto del gioco del primo tempo, David su Azzo, 1-0. A Chianese al posto di Bellingheri, la velocità di su Azzo, lo fronteggia Rossini, limite dell'area di rigore su Azzo, su Azzo, su Azzo, e c'è il gol! Grandissimo gol di David su Azzo, 2-0! Rastelli, fronteggiato da Festa, la sovrapposizione di Lamacchi, che va sul fondo, può andare al cross, a rasoterra, Makinwa! Il ballone resta lì e poi c'è il gol! Il gol del Como, Steven Makinwa, 2-1. Attenzione al contropiede del Como, del Cagliari, 2-1, Langella, Langella, limite dell'area, Langella! E c'è il gol del Cagliari che chiude la partita! Langella, 3-1!